E dalla regione Lombardia ci spostiamo a Roma perché oggi la Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che introduce un nuovo sistema di finanziamento della politica. Non sarà più pubblico, bensì basato su contribuzioni volontarie. Delle decisioni del Governo e della severa analisi della Banca d'Italia sull'operato della classe dirigente del Paese, vediamo il servizio del nostro inviato Davide Cordua. Un Paese indietro di 25 anni che non è stato capace di rispondere agli straordinari cambiamenti geopolitici, tecnologici e demografici e che oggi, con il prolungarsi della recessione, vede a rischio la coesione sociale. E' questa la severa analisi della Presidente della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Nelle sue considerazioni finali, il Governatore invita a non avere timore del futuro. Non si costruisce niente, dice, sulla difesa delle rendite e del proprio particolare. Occorre consapevolezza, solidarietà e lungimiranza. Occorre ridurre le imposte, dice. Il cuneo fiscale, che grava sul lavoro, frena l'occupazione e l'attività di produzione, ha affermato Visco. Dobbiamo dimostrare di sapere uscire dalla grave condizione in cui siamo caduti. Lavoro che viene meno e non si crea. Imprese che non riescono a modernizzarsi, a finanziarsi, che chiudono banche indebolite. Molti lavori stanno scomparendo. Negli anni a venire, i giovani non potranno semplicemente contare di rimpiazzare i più anziani nel loro posto di lavoro. Il banchiere centrale ha chiesto di creare sindora nuove chance di impiego e di rafforzare sistemi di protezione pubblici e privati nei periodi di inattività. I sacrifici compiuti per conseguire... ...si qui va considerato un investimento su cui costruire. Le riforme non basta approvarle, ha continuato Visco. Occorre metterle in pratica. Il governatore ha bacchettato la politica, poco incline. Punta l'indice contro la politica che stenta a mediare tra interesse generale e particolare. Quanto alle riforme, in molte case varate hanno tardato. Talvolta ancora mancato i provvedimenti attuativi, non solo cambiati i comportamenti dell'amministrazione pubblica. Si tratta, a parere di Visco, di un tratto ricorrente dell'esperienza storica del nostro Paese. Le principali difficoltà non risiedono tanto nel contenuto delle norme, quanto nella loro concreta applicazione. Grazie. Grazie.